Non ce l'ha fatta il primo turno, ma la vittoria al ballottaggio è stata schiacciante. E' Franco Micicchè, il nuovo primo cittadino della città dei Templi. Con il 60% ha superato lo sfidante sindaco uscente Lido Firetto, che si è fermato a poco meno del 40% al ballottaggio di domenica e lunedì scorsi. Bassa l'affluenza al voto, attestata al 42,6% degli eventi diritto. Franco Micicchè è stato festeggiato dai suoi sostenitori nel Comitato elettorale in Viale della Vittoria. Per evitare gli assembramenti del caso all'esterno del locale, sono persino intervenuti i militari delle forze dell'ordine e dell'esercito. L'affermazione di Micicchè, medico di 62 anni, sostenuto da liste civiche è appoggiato al ballottaggio dal centro-destra e apparsa scontata fin dalle battute iniziali dello spoglio, già poco prima delle 16 di ieri pomeriggio. Le priorità per la città sono tante, ha detto a Caldo Micicchè ai microfoni di Agrigento Notizie, a partire da quelle connesse all'emergenza del Covid-19, poi tutte le altre questioni come le periferie, le infrastrutture, il decoro e la pulizia. Mi auguro di poter lavorare con serenità perché la città e gli agrigentini possono avere la dignità che meritano. Ho sempre detto che per far crescere l'agrigento bisogna avere dei collegamenti con il governo regionale e quello nazionale e noi oggi abbiamo un collegamento diretto che può certamente favorirci, ha aggiunto Micicchè. Al sindaco usciente, il mio amico Lillo Firetto, ha concluso il neosindaco, un abbraccio caloroso perché l'affetto e la stima vanno oltre la politica. Dal canto suo, il primo cittadino usciente non demorde, Sarò in consiglio, ha dichiarato Firetto, nelle strade e nei quartieri, controllore severo per un'opposizione costruttiva.